Con i volti coperti da sciarpe e cappelli e la pistola in pugno, hanno fatto irruzione in un negozio di comproro e argento, portando via soldi, gioielli e pietre preziose per un valore di 15.000 euro. È la cronaca della rapina messa a segno l'11 gennaio scorso nel centro di Corato. Ci sono voluti circa sei mesi di indagini per assicurare i responsabili della giustizia. Tre le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare, di cui due in carcere ed una ai domiciliari è messa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica. Si tratta di un 42enne nato a Barletta, un 32enne Molfettese ed un 28enne di Terlizzi, arrestati all'alba di questa mattina nel corso dell'operazione Lo specchio della verità, portata a termine dai finanzieri del GICO di Bari. Punto di partenza nelle indagini è stata infatti proprio l'immagine ingrandita del volto di uno dei malviventi riflesso sullo specchietto retrovisore dello scooter usato per la fuga. Fondamentali per l'identificazione dei tre sono stati inoltre i filmati registrati da diverse telecamere di sicurezza, compresa quella installata all'ingresso del negozio e che hanno permesso di ricostruire le fasi della rapina. Una volta entrati nel comproro, i banditi hanno puntato la pistola alla testa del proprietario, costringendolo a rimanere in ginocchio. Un'azione durata pochissimi minuti, ma pianificata attentamente dai malviventi, anche alla luce dell'esperienza criminale di due di loro, con alle spalle condanne definitive per i reati simili e già sorvegliati speciali. I tre sono ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso e porto illegale di arma comune da sparo. Una quarta persona, non ancora identificata, è stata invece indagata a piede libero con l'accusa di favoreggiamento. L'operazione che si è fatta oggi, con il coinvolgimento anche del GICO e di una forte, leale e serena collaborazione da parte della direzione distretto all'antimafia di Bari, ci dice che dobbiamo continuare su questa strada del contrasto della criminalità organizzata comune. Ci ha permesso di finalmente mettere fine a una serie di rapine che sono state commesse nel tempo da questi soggetti, che almeno dalle attività investigative sembra che avessero anche intenzione di continuare a fare.